Istituto Prensivo, Manzoni, Barca, Qua la primaria, Francesco Baracca, classe 4A, anno scolastico 2012-2013, progetto a un fiume per amico. Vogliamo salvare l'acqua, e siamo noi, e siamo noi, i nuovi eroi, i nuovi eroi. Se l'acqua vogliamo usare, le regole dobbiamo rispettare. L'acqua viene usata, ma non va sprecata. Nel mondo non è tanta, per questo non dobbiamo scettarla. L'acqua è blu, che è nera, non dobbiamo farla diventare. L'acqua noi vogliamo, ma rispagliarla noi dobbiamo. L'acqua è nostra amica, la dobbiamo amare. L'acqua è da l'acqua, la dobbiamo! Aprile dei pari, forando caminata. Caprile dei pari, forando tramite. Aprile dei guardi, forando caminata. Caprile dei pari, forando ai caminata. Caprile dei pari... Caprile deiferri di Bananguitari. Caprile dei pari, forando gamitari. Caprile dei pari per function. Caprile dei pari, canti e' unutra easy sporfiare.